300 partite tra i professionisti, la Serie B e le sfide contro la Juventus di Del Piero, cavalcando gli anni d'oro del Mantova di Lori dopo essere partito da Pizzighettone, per poi proseguire a Taranto, alla Cremonese, al Trapani promosso nella cadetteria, alla Salernitana e alla Pergolettese. Dopo tutto questo, a 33 anni, nonostante tante richieste, Federico Rizzi, Cremonese doc, ha detto basta. Basta col mondo del calcio. Ho scelto di prendere questa decisione, che è stata una decisione, non ti nascondo, molto sofferente, comunque dove ho anche pianto, perché io l'ommetto che in alcuni casi ho pianto, che però mi ha permesso di ascoltare il mio cuore più che la mia testa, che mi ha permesso di svuotarmi da tutto, svuotarmi dal Federico calciatore, dal Federico amante della macchina bella, dal Federico amante delle cene, dall'amante dei vestiti, per seguire l'essenzialità, per seguire l'essenziale. Questa frase di Madre Teresa che mi ha colpito tantissimo perché mi ci rivedo proprio all'interno della mia storia, che è che il Signore non pretende da noi il successo, ma pretende che noi gli siamo fedeli. Io sto attuando questa filosofia. Il nuovo Federico è sbocciato tre anni fa, dopo un viaggio, dal quale è tornato con tante domande. Mia moglie, quando si è laureata, ha voluto come regalo il viaggio, il pellegrinaggio a Međugorje, e sono tornato da questo luogo con tutte queste domande, sul Signore, sul male, sul bene, e le ho portate avanti, le ho portate avanti e poi penso che quando prosegui e tieni ad una cosa e hai la perseveranza nel portarla avanti, poi il Signore ti dà tante risposte e ti premia. Da pochi mesi, assieme alla moglie Claudia, Federico ha creato una piccola agenzia di viaggi religiosi online. L'indirizzo è pellegrinicongioia.it. Per la prima volta a giugno abbiamo accompagnato un gruppo di 50 persone con la nostra agenzia. Questo pellegrinaggio mi ha dato più soddisfazioni di tutte le 300 partite che ho fatto nei professionisti. E quindi poi diciamo che il discernimento è stato anche più facile. Io ho ascoltato il mio cuore e ho detto ma dov'è che sei stato meglio? E la risposta è stata facile. Ora che non è più un lavoro, il calcio per Federico può tornare ad essere un semplice divertimento. A settembre giocherà per la squadra del suo paese, con gli amici d'infanzia, in seconda categoria a Pieve San Giacomo, con la maglia della Pieve 0-10. La scelta di andare a Pieve San Giacomo, che è la scuola del mio paese, è una conseguenza di un'altra scelta, di una scelta forse la più importante della mia vita. Una scelta che riguarda una mia rinascita.